Occhio! Eeeh! Minchia quanto cazzo c'era il carico? Che cazzo è successo? Eh? Minchia è così feroce il carico, ha messo il turbo È vero Guardalo! Minchia dove cazzo va? Non c'è poco Ma che cazzo ha fatto? Ma sei dentro nel terreno, ecco perché sei così piccolo Ma che cazzo è? Bellissimo, insieme a Lex, tutti e due C'è scusato in tempo, bella È caduto Ti ha lasciato cadere le armi con uno stile Nooo Che culo Che culo Madonna Ma che'è che ha preso Ha preso il? Sììììììììì! Ha preso il mio! Bellissimo! Che pale, si è bagato di nuovo, guarda Il cazzo l'hanno sistemato! che cazzo? saldo la tippa e mandaglierà cos'è la tua impressione? io con la scorciatoia non posso fare ce l'ho fatta insomma non ha neanche fatto il turbo ho saltato e basta no, ho saltato e basta è perché Baby Pop è leggera si vola però tipo faccio così dai la gente mi si è incastrata addosso no ce l'hai fatta, bella ma ferma non si sbatte contro tutto stagnotina ma perché? ma perché? così così ma così ho visto e mi ti morendo perché non faccio niente io vedo dove è quell'altra che invece impazzisce per farla ecco ora puntualmente vengo schiacciata guarda stammi dietro e rimani ad osservare ecco vuoi? vedi? ah si è vero aspetta c'è qualcosa che non funziona ma se io facessi tipo così se io facessi ripetere qualcosa e ti succedi preparati io per gli odi povera tua mamma non la voglio non voglio dirle niente cos'era? scusate ci inghezzate ah ma stupendo oh infatti Esiste un raggio, dici Vieni qua, troietta Cos'è che ho fatto? Cos'era? Cos'era? Guarda, è felice però, è felice C'è l'ex qua Ti proteggo io! No, corre Dai che ho fatto il decreto sicurezza bis, vieni qua Chi è? Minchia Che è successo sta mappo, guarda? Oh Dio Ah c'è un altro pezzo nero di qua Ma sono vivo? Sì Sì Sì, ci sto ancora Grazie Guarda che sta squirtando No? No 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 No